Tutti assolti i 14 aquilani che il 9 novembre 2010, nel giorno dell'ultima visita all'Aquila dell'allora Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, organizzarono una contestazione fuori della scuola d'ispettori e sovrintendenti della Guardia di Finanza a Coppito, in cui venne danneggiata anche l'auto dell'allora Vice Commissario per la Ricostruzione Antonio Cicchetti. Ad annunciarlo, sulla pagina Facebook, è il Comitato 332, di cui molti degli imputati facevano parte. Assolti, scrive il 332, 14 imputati e imputate nell'ennesimo processo per le manifestazioni post-sisma dell'Aquila, sono stati appena assolti perché il fatto non sussiste, per il reato di violenza privata e per non aver commesso il reato, manifestazione non autorizzata. Secondo il 332, in quella stagione di grande mobilizzazione popolare, è stato messo in scena dallo Stato un meccanismo fortemente repressivo con l'obiettivo di indebolire un forte movimento popolare e di farci perdere decine e decine di giornate in tribunale. La Procura della Repubblica dell'Aquila aveva disposto la citazione diretta in giudizio per risponenti dei comitati e del movimentismo cittadino post-terremoto che, secondo gli inquirenti, non avevano comunicato la manifestazione pubblica, violando per questo il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, contestazione smentita dalla sentenza. Inoltre, per sé di loro, era stata contestata anche la violenza privata in relazione ai danneggiamenti avvenuti nella stessa giornata dell'automobile di Cicchetti, due tipi di reato per i quali appunto non è previsto il filtro dell'udienza preliminare, ma finiti direttamente al vaglio del giudice monocratico. Gli imputati con entrambe le accuse erano Anna Lucia Bonanni, Berardino D'Angelo, Lucia De Biasi, Mattia Fonsi, Mattia Lolli e Giuseppina Pitari. La sola violazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, invece, era stata contestata ad Anna Maria Barile, Claudia Colacchi, Antonio Congeduti, Paolo Dell'Aventura, Antonio Gasbarrini, Alessandro Gioia, Giuseppina Lauria e Gianluca Taralli. Tutti i 14 indagati sono stati assolti. Quella del 9 novembre fu l'ultima visita all'Aquila delle oltre 30 fatte dal 6 apriere 2009 in poi da Berlusconi, quando era già caduto in disgrazia, verso una parte della cittadinanza. In quell'occasione, tra l'altro, donò 200.000 euro all'Aquila Regmi. L'occasione era la consegna dei riconoscimenti di protezione civile a 18 responsabili e 83 strutture per il servizio svolto nel posto terremoto, programmata da tempo. Frazioni abbandonate a se stesse dopo 8 anni dal sisma e ricostruzione pesante mai partita, fatti che dimostrano la completa incapacità e responsabilità dell'amministrazione comunale di centro-sinistra. È la denuncia del salviniano e candidato sindaco alle prossime elezioni Luigi Deramo. Emblematica poi la situazione di Arischia, dove 43 famiglie hanno dovuto abbandonare il centro storico. Queste famiglie non sono state sufficientemente considerate. Bisogna necessariamente procedere all'abbattimento degli edifici pericolanti e lo si sta facendo con delle procedure che presentano profili di illegittimità e soprattutto ancora una volta scaricando la responsabilità sui presidenti di consorzio, perché dovrebbero essere costoro, utilizzando i fondi per la ricostruzione assegnati ai consorzi stessi, a dover procedere agli abbattimenti. Quindi ancora una volta questa amministrazione se ne lava le mani, non riesce a dare una tempistica certa per far rientrare queste 43 famiglie. Accanto a Deramo anche la quella futura con Antonio Pensa, che ha voluto sottolineare la situazione di Roio e dell'università, anche quella una zona completamente abbandonata. E soprattutto anche per quanto riguarda la situazione università, quindi Roio, che nonostante ospiti una delle facoltà più prestigiose d'Italia, si ritrova ad essere in completo disagio e nonostante potrebbe aspirare ad avere una considerazione molto più importante. Presente in conferenza stampa anche Giancarlo Silveri, ex manager dell'ASD dell'Aquila, del Movimento Riscatto Popolare. Prove di dialogo con i salviniani in vista delle prossime amministrative? I due rispondono così. Noi siamo un'aggregazione civica che ha detto che è aperta a collaborare con tutti quelli che sono alternativi al PD. Specie soprattutto sui temi che riguardano la città e i cittadini. Questo è un tema che riguarda la città e i cittadini. Noi ci siamo pronti, assolutamente pronti a far valere le ragioni di chi. E poi viene messo da una parte da una gestione che è assurda, vergognosa, incomprensibile. Io ho detto già che le primarie non sono d'accordo, peraltro un'aggregazione civica che si mette a fare le primarie con i partiti non ha senso, quindi no. No, non c'è nessuna alleanza di natura politica, c'è la condivisione per trattare un argomento che riteniamo fondamentale e importante per la città dell'Aquila.